Professore Adornato, preside della Facoltà di Scienze Politiche, oggi viene presentato questo master di secondo livello, un altro anno diventerà un corso di laurea magistrale. Ci sembrava del tutto naturale, visto i risultati delle otto annate svolte, migliorare questo percorso, inseriarlo ancora in modo più fondato dentro l'Ateneo e per questo lo abbiamo trasformato in curriculum interamente fornito in inglese agli studenti. E' un modo di contribuire all'internazionalizzazione ulteriore di questo territorio, offrendo supporto scientifico allo sviluppo delle imprese e del territorio nel suo insieme. Naturalmente è una collaborazione che nasce da lontano, viene da lontano perché abbiamo voluto puntare sull'internazionalizzazione, sulla crescita di esperienze qui nella nostra zona per poter aiutare l'azienda e sostenerla nei processi di internazionalizzazione. Questo master serve a intercettare giovani stranieri che potranno essere un domani utili riferimenti proprio per le nostre aziende. Quindi faranno questo corso qui a Macerata, poi dopo andranno in stage presso le nostre aziende e quindi potranno diventare dei fedeli ambasciatori di quello che è il Mede in Macerata e il Mede in Italy. Quando un master raggiunge la non edizione significa che è qualcosa che davvero si radica e quindi che intercetta bisogni reali del territorio e che incontra l'interesse sia di giovani che provengono da così lontano, in numero significativo, sia di soggetti come la Camera di Commercio, come Confindustria, l'ICE, cioè soggetti che come sappiamo fanno dell'internazionalizzazione un elemento fondamentale e le loro strategie, appunto tutto questo significa che questo master, questa prospettiva è giusta e corrisponde a un bisogno del nostro territorio. Grazie.